Super offerta di marzo, Renault Scenic con solo 10 km, tua a 18.900 euro In versione Zen Sport 2, 1.500 DCA e 110 CV, euro 6 B In matricolazione marzo 2018, in versione B-Sty, quindi due colori Blue Cosmo col petto nero Con, certi legal eventi in versione Silver Stop Cruise Control, limitatore di velocità, Start e Stop Radio System da 4,2 pollici, compreso USB e Aux Climatizzatore naturalmente automatico B-Zona Assistenza alla frenata di emergenza, interamente finanziabile Senza anticipo, tua con soli 321 euro al mese Con due anni di garanzia full, Renault Selection Furto, incendio, grandine, cristalli e atti vandalici per due anni Ricapitolando, solo a marzo, Renault Scenic, tua a 18.900 euro Vi aspettiamo numerosi da Ninica